Sono un'artista e ho fondato uno stato, il Garbage Patch State, che è il secondo stato in termini di estensione al mondo, perché misura 16 milioni di chilometri quadrati, tanta è la superficie negli oceani inquinata dalla plastica. A questo momento ci troviamo a Roma, sui fori imperiali, e ho costruito con dei gappioni metallici la parola help gigantesca sulla Basilica Giulia. E questo è appunto il grido d'aiuto della nostra epoca, perché la plastica è quello che resterà. Però non è spazzatura quella che ho messo, questa opera è fatta da milioni di tappi riciclati da milioni di persone, e quindi c'è un esempio virtuoso e c'è anche una speranza che forse tutti insieme potremo farcela a risolvere questo problema.